27 gennaio 2022 sono passati cento anni dalla morte di giovanni verga il padre del verismo dalla sicilia in su sono previsti vari eventi celebrativi tra cui anche l'emissione di un francobollo commemorativo eppure anche se nessuno ha mai negato la portata rivoluzionaria del verismo nella letteratura italiana verga è un autore che in vita non ha riscosso il successo che meritava anche se non gli mancarono gli estimatori nell'ambiente culturale dell'epoca a fronte di una copiosa e varia produzione letteraria è ricordato dai più per le opere che si studiano a scuola rosso malpelo e in malavoglia da cui tra l'altro si è fatto ispirare lucchino visconti per il suo film la terra trema è stato il suo pessimismo radicale a renderlo poco attettibile agli occhi dei lettori o forse la rassegnazione vista come valore positivo ha oscurato i suoi meriti letterari in un mondo in cui stava per affacciarsi il mito dell'uomo che si faceva da sé partendo dal nulla per comprendere meglio le ragioni del suo parziale in successo ma anche per riscoprire quello che giovanni verga può ancora dare ai lettori di questo secolo siamo qui con emanuele zinato critico letterario e docente di letteratura italiana contemporanea all'università di padova buongiorno professore e benvenuto sul bo live buongiorno a lei grazie quali sono i temi e gli stilemi che caratterizzano verga rispetto agli autori precedenti dovremmo dire prima che verga è un grande autore della modernità letteraria l'epoca in cui da allora fino ad oggi si fanno maggiormente sentire delle contraddizioni delle scissioni tra gli scrittori e l'organizzazione complessiva economica e sociale la sua scrittura matura non è pensabile non è ipotizzabile senza il contesto non tanto e non solo di catania terra natale ma della milano che nel secondo ottocento è il cuore pulsante della modernità italiana milano dove lui con capuana discute come realizzare anche da noi in un contesto ancora arretrato e unito da poco unità d'italia era alle spalle ma non da tanti anni un romanzo davvero sperimentale come stava accadendo in francia consolato come passano quindi se i temi verdiani più noti al largo pubblico sono l'ambiente siciliano arcaico le forme le idee la poetica potremmo dire di verga con la quale vengono rappresentati sono invece tipiche di una condizione dell'arte nella società industriale avanzata per esempio il ciclo romanzesco dei vinti di cui disponiamo però solo di due grandi capolavori noti cioè malavoglia e mastodon gesualdo aprono anche nelle nostre lettere i motivi tipici del grande realismo europeo i temi della scalata sociale la pulsione darwiniana all'arricchimento anche distruttivo e corrosivo che da balzac a zola a parigi avevano costituito appunto i grandi cicli romanzeschi di indagine sociale cioè verga è importante soprattutto perché fonda il romanzo e la novella moderni davvero moderni incentrati sull'impersonalità che non è come avrò modo di dire anche dopo solo un espediente una tecnica narrativa è un modo sperimentale per mettere in scacco il concetto univoco di verità e dare voce al di là dell'oniscenza di un autore alla prospettiva dei personaggi anche quando sono scomodi moralmente scomodi come accade in francia con flaubert che appunto è il fondatore del romanzo moderno questo è la sostanzialmente la modernità veriana immagino che con questa portata rivoluzionaria verga abbia influenzato anche autori successivi e se sì in che modo l'influenza diciamo si coglie già al primi nel primissimo novecento quando noi pensiamo ai grandi narratori modernisti da noi sono tre i grandi autori del modernismo italiano sono pirandello tozzi e svevo ecco pirandello che nel 1920 a proprio a catania pronuncerà un famoso discorso in onore di verga può potrà mettere in discussione per esempio nel suo più noto romanzo il fumatia pascal l'atto stesso del narrare e in modo umoristico proprio grazie a quella rivoluzione impersonale verdiana all'impersonalità verdiana e del resto il pessimismo diciamo che lei appunto a cui faceva accenno che costituisce una marca una cifra nella ricezione di verga non esaurisce la complessità della scrittura d'altra parte anche federico tozzi l'altro un altro novelliere narratore modernista senese che nel 1918 in un fossaggio rilevante mette in evidenza proprio la modernità vergiana il saggio si chiama giovanni verga e noi è un titolo che potrebbe essere ripreso anche oggi no noi e verga che rapporto abbiamo e possiamo avere con questo scrittore tozzi può mettere in scena soprattutto nelle sue novelle un autore di grandi importanti novelle paragonabili a quelle verdiane proprio personaggi sostanzialmente marginali o perturbanti che rappresentano in modo ambivalente non univoco il rapporto tra vittima e carnefice in maniera quasi kafkiana come ha detto la critica e questo tipo di personaggi erano stati inaugurati dalla novellistica vergiana penso non solo a rosso malpelo di cui si faceva riferimento prima ma anche un personaggio straordinario femminile come la lupa ecco personaggi certo perseguitati perturbanti e marginali in cui non si può dire chi è buono e chi è cattivo perché questo rapporto diciamo di vittima carnefice è mescidato in modo problematico non scisso in maniera semplicistica e questa questa complessità del personaggio viene ereditata proprio sia da pirandello che soprattutto da tozzi poi un'altra stagione di fortunata per verga tra gli scrittori è stata quella del neorealismo naturalmente calvino nella sua prefazione al suo primo romanzo sentiero nei nidi di ragno mette in evidenza questo debito che i neorealisti avevano converga negli anni 40 e 50 del novecento però diciamo a parte i grandi scrittori come calvino o per esempio fenoglio della malora che sanno ereditare da verga non soltanto la superficie ma anche la profondità formale negli anni 50 la critica di tipo sociologico e storicista tende a valorizzare più il dato socio storico e di classe di randi di classe e cioè la controversa questione del realismo non tanto appunto le novità stilistiche formali di verga che sono quelle più dirompenti e li vengono un po dico un po trascurate in quell'epoca però ecco questi sono le due i due momenti che in cui si registra un'influenza di verga negli scrittori italiani più importanti come pirandello tozzi o calvino e fenoglio quindi stiamo parlando di fatto di un autore estremamente complesso estremamente rivoluzionario che però appunto non ha avuto un grande successo di critica e di pubblico tra i suoi contemporanei e secondo lei quali sono le motivazioni beh sa le attese del pubblico soprattutto del largo pubblico se guardiamo soprattutto ai lettori e non solo ai critici sono sempre nella modernità influenzati da grandi mode che sono sia mercantide editoriali cioè da stereotipi da stereotipi che esigono che nel testo ci siano dati personaggi situazioni facilmente riconoscibili nel fine ottocento quando verga realizza la sua rivoluzione stilistica la novella rusticana il triangolo amoroso e sentimentale l'estetismo di dannunzio per esempio erano stereotipi molto diffuse nel pubblico mentre la sperimentazione linguistica pensiamo al pastisce linguistico verbiano cioè all'incrocio tra italiano e siciliano che lui realizza nei suoi testi e i temi appunto e i personaggi non non manichei non scontati che lui mette in scena e soprattutto la tecnica dell'impersonalità che prevede l'eclisse del narratore sconvolgevano l'orizzonte d'attesa della sua epoca quindi non è un caso che il grande successo di verga nei suoi anni nel suo tempo ci ha limitato a un dramma rusticano appunto a tinte forti come cavalleria rusticana che viene messo in scena moltissime volte ricevuto come un grande successo tanto che rimarrà nell'immaginario collettivo lo stereotipo della cavalleria rusticana pensiamo in quegli stessi anni un grandissimo narratore come italo svevo pubblica due romanzi tra cui un grande capolavoro come senilità che viene ignorato dal pubblico mentre diciamo in quegli stessi anni uno scrittore a tinte forti come guido da verona quindi vendeva già centinaia di migliaia di copie nei romanzi incentrati su elementi sentimentali facilmente riconoscibili dal pubblico il discorso sulla critica è un po diverso perché croce che era il principale critico letterario il filosofo del primo novecento italiano certamente canonizza verga ma privandolo attenuando proprio gli elementi più innovativi e perturbanti della sua scrittura come abbiamo visto tra critica e pubblico forse chi riconosce di più verga da subito sono grandi scrittori come pirandello e tozzi più che la critica che contava o appunto il largo pubblico in cerca di tinte forti e di appetiti facili come sempre accade anche ora verga non è uno degli autori classici più letti rispetto a un pirandello a molti meno lettori quindi le chiedo cosa potrebbe trovare il lettore di oggi nelle sue opere per per arricchirsi diciamo allora lettori di oggi penso potrebbe trovare tre fattori riconoscibili attualizzabili uno riguarda la lotta per la vita che era tanto forte a fine ottocento nel mondo arcaico siciliano quanto l'è oggi nel mondo globalizzato appunto che è fondato su una su una lotta all'ultimo sangue potremmo dire per la per la per il dominio economico dell'uomo sull'uomo e questo l'aveva ben capito verga analizzato come i grandi narratori del resto balzac coso l'avevano ben capito nella francia dell'ottocento e verga ci media questo questo visione darwiniana dei rapporti sociali attualizzabile poi la capacità della grande letteratura di dare voce non solo in maniera appunto manichea o stereotipata al rapporto complesso fra vittime carnefici quindi eliminando ogni intento moralistico mettendo in evidenza in maniera verista si potrebbe dire ma verista attualizzata il rapporto complesso tra vittime carnefici e infine l'impasto dialettale pensiamo a autori importanti come gadda ma per riconoscibili dal largo pubblico come camilleri no per esempio cioè la nostra letteratura essendo l'italia una una terra plurilingue da sempre no il suo strato dialettale permane pur con tutte le modifiche in un ambito mediatico ecco lì possiamo riconoscere la valorizzazione linguistica dei dialetti in contatto con l'italiano questi sono tre elementi che si potrebbero valorizzare oggi nella lettura di verga non pensiamo a scuola no quello che avviene a scuola di solito l'insegnante torricizza rosso malpelo che è uno dei testi più noti mettendolo in relazione con l'arcaico mondo meridionale post unitario e lo studente lo sente lontano perché oggi l'era digitale post industriale è iper moderna e globalizzata vede quel quel mondo come qualcosa di com'è effettivamente molto lontano quindi legandolo soltanto alla sua epoca e al mondo arcaico siciliano lo studente il lettore medio lo sente lontano però in realtà verga scrive di quel mondo con una lente moderna perché a milano mentre concepisce il verismo ea milano nella città delle banche delle imprese industriali quindi quando lui mette in scena un personaggio emarginato perturbante come rosso malpelo non intende soltanto rappresentare la retratezza meridionale ma vuole anche realizzare un'estrema modernità di scelte stilistiche dell'autore allora forse bisognerebbe capire questo il primo elemento quel quel ragazzino malpelo non è soltanto storicamente un lavoratore di una cava sulle pendici del vulcano siciliano ma è anche per molti aspetti un personaggio paradossale che ci mostra la fragilità della vita umana leopardianamente che ci mostra le i limiti della soglia diciamo tra vita e morte il suo mondo è un mondo e demoniaco mondo sotterraneo il mondo della cava di zolfo è una sorta di inferno terrestre che ha qualcosa di archetipico e valido per ogni epoca no un tema che non è soltanto di forte pertenenza storica il lavoro minorile naturalmente che il tema del testo il lavoro dei ragazzini ma è anche sovrastorico possiamo riconoscere elementi anche attuali sia sociali ma anche dell'immaginario antropologico quindi ecco andare anche oltre il tempo che viene rappresentato e con lo stile di verga possiamo raggiungere elementi di grande modernità e di grande attualità dobbiamo fare uno sforzo naturalmente oltrepassando gli stereotipi accettando la sfida stilistica dell'autore è una sfida ardua però va la pena ecco va la pena accettarla grazie a tutti